Questa mattina intorno alle 10, Papa Francesco ha raggiunto la residenza del Papa Emerito Benedetto XVI presso l'ex convento Mater Ecclesiae, nei Giardini Vaticani, per salutarlo e augurargli una buona permanenza a Castel Gandolfo, dove il Papa Emerito si è trasferito questa mattina e si tratterrà per due settimane, fino al 14 luglio. L'incontro tra Papa Francesco e il suo predecessore, riferisce la Sala Stampa Vaticana, compreso un breve colloquio e durato circa mezz'ora. Grazie